Nel vero senso della parola, perché siamo intorno a un tavolo che non c'è, però può essere un'occasione per fare alcune riflessioni a prescindere dal pubblico, diciamo, che può essere non numeroso, ma sono comunque riflessioni interessanti per il mondo che noi rappresentiamo, che voi rappresentate. Allora, la prima cosa che dico, e poi io non dirò più nulla, passo il microfono a Maurizio Maestrelli, è che la firma ha pensato a questa cosa, una tavola rotonda che coinvolgesse tutti i protagonisti della filiera, pensando in particolare al mondo della produzione artigianale, perché è convinta di alcune cose, convinta del fatto che i pubblici esercizi sono un terminale essenziale per i consumi alimentari, a tutto tondo nel nostro paese, non la faccio lunga, ma lo sapete anche voi che le cose fanno male anche fuori casa, ma molto peggio in casa, quando parliamo di consumi alimentari negli ultimi anni. Lo è un terminale anche dal punto di vista della qualità, della conoscenza dei prodotti, perché è un'interfaccia diretta con il mondo, con i consumatori, quindi noi pensiamo, se ci permettete, visto il nostro punto di vista, di ribaltare per un attimo la piramide, partendo dai pubblici esercizi per ripercorrere a ritroso la filiera. Perché senza essere troppo di parte, e lo siamo naturalmente, però riteniamo che il pubblico esercizio possa svolgere un ruolo importante, soprattutto nei miei riguardi dei prodotti di qualità, in genere, e dei prodotti che hanno ancora voglia di crescere, come può essere il caso della birra artigianale. Io poi, se ci sarà bisogno, magari faremo dire qualcosa anche a chi vuole, qui tra il pubblico, ma passo subito la parola a Maurizio Maestrelli, intanto vi ringrazio per essere qui. Grazie. Quello stesso, so che in una tavola rotonda in cui si parla di birra, chiedere una bottiglia d'acqua naturale è già insultante per tutti, però scusate, ma se si potesse avere sarebbe l'ideale. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare, è la prima volta che mi capita di fare una tavola rotonda sulla birra, Alvinitali, ma anche di battaglia di Zama questa cosa, siamo riusciti a portare l'argomento birra nella principale... Ecco, va bene, già stato corretto subito dal direttore del mondo della birra, che ha presentato la rivista, si parla del 1983, giusto? Nell'84. Nell'84, va bene. A parte questo caso pionieristico di presentazione della rivista... No, però allora è uno scherzo, nessuno di me. Esatto. No, quello che mi colpisce, che è detta come battuta, insomma, la prima volta che si parla di birra alla principale, la più importante fiera del vino, è come magari alcuni di voi avranno notato anche l'incremento della presenza dei birrifici ospiti qui a Verona in fiera. Anno dopo anno, il loro piedino, diciamo, messo all'interno della porta, ha aperto un barco sempre più importante. E se vi concedete una riflessione, da parte mia è solo, credo, la testimonianza del fatto che vino e birra non siano prodotti di neantitesi, ma che comunque facciano parte di un unico grande mercato. e conoscano consumatori spesso, poi, gli stessi tipi di consumatori, che a volte scelgono la birra, a volte scelgono il vino. Sono molto contento e ringrazio la FIPE per l'invito, perché mi sembra molto importante che la più importante organizzazione che raccoglie i pubblici esercizi in Italia dimostri attenzione verso il prodotto birra, prodotto che per lunghi anni non è mai stato considerato per la dignità che ha. La dignità che non è solo un valore morale, ma è un valore storico, è un valore di diversità, di stili, di produzioni, è un valore, se vogliamo, organolettico da un certo punto di vista, ed è anche un valore di creatività imprenditoriale. L'Italia oggi conosce un periodo di rivoluzione, come ho detto prima, quando eravamo a tavola, assolutamente nuovo. È forse il periodo più entusiasmante e, se vogliamo, anche complicato che ci sia mai stato in Italia, perché non c'è mai stato un numero di produttori così elevato, o forse c'è stato nell'Ottocento, ma se ne sono perse le tracce, e oggi in tutto questo numero di piccole produzioni si parla di circa 500, non unità produttive, ma di 500 aziende birrarie, e uso il termine aziende molto generico, perché tra queste consideriamo il brew pub, i microbirifici e la novità recente delle brew firme, cioè di aziende che fanno la birra in altri impianti, ma 500 è un numero assolutamente importante, con quote anche di mercato che cominciano a essere significative. Gli ultimi dati a Sobirra, chi li ha più precisi e pregato di correggere, mi parlavano di circa il 2% del mercato imputabile alla tradizione artigianale. Ovviamente una presenza di questo tipo cambia tutto, cambia da un lato il ruolo e l'atteggiamento dei produttori storici, dei produttori industriali, dalle multinazionali alle aziende non multinazionali, ma comunque di tipologia, chiamiamola industriale, cambia il ruolo o l'attenzione dei distributori che sono l'anello di congiunzione della filiera tra produzione e servizio al pubblico, cambia il ruolo fondamentale, ed è quello su cui si gioca la partita decisiva secondo me, dei pubblici esercizi, perché alla fine è il consumatore che decide e che fa il mercato e la capacità del pubblico esercizio di veicolare un prodotto è assolutamente decisiva per il successo del prodotto stesso, soprattutto per il successo delle piccole produzioni che per ovvi motivi anche economici, soprattutto economici, non hanno la possibilità di veicolare, di raccontare, di comunicare il loro prodotto attraverso tutte quelle operazioni di marketing e di comunicazione pubblicitaria che le grandi aziende possono fare. Terra Terra, Leonardo Biro del Borgo, Tonon di San Gabriel, dubito che possano permettersi di fare sport pubblicitari o sponsorizzazioni faroniche di Champions League, adesso poi Leonardo mi sventirà sicuramente. E quindi c'è la necessità di fare un'opera di comunicazione diversa, siccome per me, credo per tutti noi, è tanto importante fare un buon prodotto quanto saperlo raccontare e fare un buon prodotto e non riuscire a venderlo non ha molto senso in un'economia di mercato come quella attuale, capirete benissimo che il pubblico esercizio è in qualche modo sono le ambasciate sul territorio del prodotto, in questo caso la birra artigianale. Abbiamo la fortuna di avere in un colpo solo tutti i protagonisti o comunque dei rappresentanti di tutti i passaggi della filiera. È estremamente interessante, può essere anche un po' pericoloso perché spesso ci sono delle discussioni tra i protagonisti della filiera, però abbiamo Gabriele Tonon del birraificio San Gabriel, aperto nel 1997, quindi nella fase più pionieristica della birra artigianale. Leonardo Di Vincenzo di Birra del Borgo, arrivato qualche anno dopo, ma ormai di fama e di presenza fisica anche internazionale, perché spesso avrei un amico da New York in partenza per l'Australia, non si sa dove lo si può trovare. Io tutte le volte dove devo chiamare il telefono a tremo perché non so quanto spendo di chiamata. Abbiamo il mondo della produzione, tra virgolette, industriale di birra a castello, rappresentato dal direttore commerciale. Solo Oregon. Solo Oregon, ma già abbastanza. Abbiamo Bepi Cuzziol, che credo sia conosciuto da tutti, è uno dei distributori più prestigiosi importanti sul territorio nazionale, con una lunghissima competenza, molto lunga, competenza nel mondo del vino, ma credo anche interessato al discorso delle birre. Poi abbiamo due rappresentanti di pubblici esercizi, uno è Lino Maiorano, che sembra un fitarrista rock, ma in realtà gestisce uno dei locali più blasonati e amati d'Italia per tutti gli appassionati di birra artigianale, lo chef del Buricorbo. E abbiamo Moreno della nuova, nuova, giusto, Osteria, nuova Osteria Tripoli, che è uno chef che cucina con la birra. Quindi abbiamo sia la parte del pub tradizionale, quindi del consumo e della mescita di birra, però con scrittatura, regola d'arte, conoscenza dei prodotti, che come ho detto prima, che sono tasselli fondamentali nella veicolazione del prodotto, e anche un po' la nuova frontiera del consumo delle birre di qualità, che è proprio quella della ristorazione della cucina. Per ultimo, il signor Stefanelli, presidente dell'Associazione Degustatori Birra del Lazio, è altrettanto importante perché senza la cultura del prodotto e senza la possibilità di comunicare il prodotto, ben poco si fa. E loro sono un'associazione rappresentata sul territorio nazionale che si occupa proprio dell'organizzazione di corsi su la birra. Cosa sono i corsi su la birra? Vi dico solo queste. I tre livelli classici e canonici dell'Associazione Italiana Sommelier prevedevano a fronte di un monteore di 200 di studio sull'ini, un'ora o due ore dedicate a birre e distillati da cereali. Quindi di due ore, un'ora riservate alla birra. Voi capirete che la formazione sulla birra da parte di Sommelier era molto scarsa. Oggi la stessa associazione Sommelier fa molte più iniziative sulla birra. Però rivela quanto strada ancora ci sia da fare, quanto ancora ci sia da raccontare. La gente non conosce neanche gli ingredienti basi della birra, non conosce i principali studi. Allora, per passare la palla adesso, però i veri protagonisti, io non sono tra questi, io partirei proprio con Gabriele Tonino. Un po' per capire, perché quando siete partiti nel 97 i primissimi birrifici sono del 96. C'era stato qualche episodio precedente a metà degli anni 80, ma per convenzione consideriamo il 96 come l'anno zero della birra artigianale in Italia. Allora, non c'era l'attenzione dei media, il mercato non sapeva chi foste, non si sapeva neanche bene che cos'era la birra artigianale, però brevemente perché siete partiti, ma invece soprattutto che cosa è cambiato nel bene ma anche del male dal 97 a oggi. Questo dovevo un po' mi racconcire a contatto a questo.